È partita da Torino e si è ramificata in tutta Italia, toccando anche Arezzo, la maxi-operazione dei NAS che ha portato allo smantellamento di un traffico di sostanze dopanti che si estendeva su tutto il territorio nazionale, tra le persone finite agli arresti domiciliari, mentre per altre 12 è scattata la denuncia. I reati ipotizzati sono quelli di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ed esercizio abusivo della professione medica. In totale sono state effettuate 38 perquisizioni in 14 province italiane, tra queste appunto anche quella di Arezzo. Qui i NAS hanno bussato alle porte di un'abitazione nel comune di Castelfranco Pian di Scò. Le indagini erano partite nel 2019 dal sequestro di farmaci anabolizzanti ad un culturista. Le sostanze, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, arrivavano illegalmente dall'estero. Poi in plichi anonimi ed intestati a prestanome venivano consegnate dai vari corrieri ignari del traffico in tutta Italia. I destinatari erano sportivi ed atleti che le utilizzavano per migliorare le proprie prestazioni. Nel complesso sono state sequestrate dai NAS così 58 confezioni, 13 blister, 210 fiale, 1.722 compresse, oltre a 51 dispositivi per l'assunzione. Un giro d'affari che avrebbe garantito 15.000 euro di guadagni all'anno per ognuno dei tre arrestati.